E potrebbe capire che una preghiera trasversale, non si capisce questa preghiera musulmana cristiana, ma certamente che accoglie tutti quanti, dice, odio io, ti chiamo Dio, ti chiamo il misericordioso, ti chiamo il pietoso e il misericordia, ti invoco con tutti i bei nomi, quelli che conosco e quelli che ignoro, ti supplico perdonami e comprimi con la tua misericordia. E vorrei ancora ringraziare anche questa bellissima opportunità di condividere questa parola con voi, in questa tenda della misericordia, io infatti subito condiviso, sul testo che noi siamo adesso nella tenda della misericordia, a di tempo, cosiddetto nella mambre laziale. Vi ringrazio ancora, adio tutti. Ecco, c'è qualcuno che domanda? Voce. E' molto bello questo progetto che si può pregare con una terminologia che si può pregare dell'Università. La domanda, l'informazione, a volte si ricorda la decisione che in paesi, in paesi di prevalenza musulmani, alcuni cristiani dovrebbero usare il termine Allah per indicare Dio, perché invece questo viene vietato. Com'è questa cercella? C'è veramente una resistenza, la risposta soltanto al caso di qualche gruppo in Italia, con questo...